Maria Rita Schembari o Filippo Spataro a Comiso e Antonio Tringali o Peppe Cassia a Ragusa, questi i nomi su cui gli elettori dovranno dare la propria preferenza con una croce su uno dei due. In teoria la procedura di votazione e balottaggi di domani a Ragusa e Comiso è molto più semplice rispetto a quella del primo turno lo scorso 10 giugno. Tuttavia ci sono alcune accortezze da seguire, pena il rischio di annullare il voto. La presenza per esempio dei simboli delle liste potrebbe indurre l'elettore a esercitare il cosiddetto voto disgiunto, previsto al primo turno ma non domani. Una scheda divisa in due, a destra in alto il nome di un candidato sindaco con le liste che lo appoggiano, a sinistra il nome dell'altro candidato sindaco anche lui con le liste che lo appoggiano. Nei casi sia di Ragusa che di Comiso, vista la mancanza di apparentamenti, le liste resteranno uguali a quelle già viste durante il primo turno. In teoria l'elettore ha solo un'opzione, mettere una croce entro il rettangolo dove è contenuto il nome del candidato sindaco. Tuttavia è considerato valido anche il caso in cui l'elettore pone la croce sul simbolo di una o più liste collegate. Sempre per lo stesso principio è considerato valido anche il caso in cui il segno è posto sul nome del candidato sindaco e anche sul simbolo di una o più liste collegate. A differenza del primo turno non è previsto il voto disgiunto al ballottaggio. Questo perché la scelta è solo da effettuare tra i due primi candidati sindaco e non anche sulle liste. Per questo il voto è da ritenersi nullo nel caso in cui l'elettore pone un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo della lista che appoggia l'altro candidato. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne sempre domani alle 23.